Era un'impresa già difficile in condizioni normali, figurarsi si è affrontata senza due titolari come Candeago e Martinez, oltre all'assenza di due importanti alternative quali Della Vecchia e Gionchetti. Così la Darold Logistics Belluno esce sconfitta 3-0 nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie 3 maschile. Una lunga trasferta infrasettimanale in Abruzzo, che tra l'altro dovrà essere replicata mercoledì negli ottavi di finale di Coppa Italia. A rendere ancora più complessa la ricerca del risultato, ci si è messa l'assenza del tecnico Diego Poletto e del suo vice Lorenzo Nesello. La Darold Belluno comunque ha fatto quel che ha potuto. Buono l'approccio alla sfida con il primo set, tenuto in equilibrio fino al 18-16, prima del 25-20 conclusivo. Nel secondo e terzo parziale però la superiorità abruzzese si è fatta sentire e il doppio 25-15 ha chiuso i giochi. Il direttore generale Franco Darè commenta così il risultato, che non deve certo scalfire le certezze, di una squadra che sta comunque disputando una gran bella stagione da neopromossa. Sapevamo che era una partita difficile, non giochiamo da tante settimane e l'aspetto fisico ha influito, ha poco da fare, si sapeva. Va bene, non era questa la nostra gara da vincere, rifattiamo la domenica che cominciano a lasciare le gare che a noi servono per portarci a casa la salvezza. Domenica la Darold Logistics torna finalmente a giocare in casa, sfidando all'ora 18 alla spessa arena la Jetit Bologna. Mercoledì invece di nuovo trasferta Pineto, questa volta come detto per la Coppa Italia.